Sì 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 come la che? con un cuore in testa e prima classe e il primo della classe quanti medici il tipo classe questo flash moda ogni cotto di cash con altcoda st'era un'attivazione compriamo faccio l'ultimo mentre precipitiamo ok ragazzi? siete pronti ragazzi? come è tutti? sto cima le pinappi oriograppe fratti sei tante braccia le gambe giù le botteghe i fucker scopo di questi passi infondi le casse pace tiro scegli il tuo io nel vino sempre senti bocchino prendi il mio senza regio controllerci dinamica lecce la verità a sfonderare faccio il saggio primo ricordo il meglio di qualcuno senza la situazione chi non ricorda la caduta la soffressione chi non sorterà controllerci come un uomo che volo nascito e troverai e troverai vai il cibo il cibo i fai non dò non dò saperare quello il cibo non dò il cibo è un cibo è un cibo il cibo è un cibo il cibo è un cibo è un cibo per i navi semmo in atti estremi stato nel voto dopo ferris check it i pallini la via la via la via il cibo Grazie per la visione 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 Grazie per la visione